Michela Andreozzi nella notte piccola per noi un personaggio tu l'hai definito un po' negativo ma poi neanche tanto a noi ha fatto un po' tenerezza però ci piace un sacco questa gaga raccontaci chi è allora intanto è una bugiarda patologica perché è una evidentemente così infelice di chi è, di cosa fa, da dove viene, che vita, quanti anni ha, che capelli ha, che unghia che è una che si è inventata tutto da capo e quindi è una bugiarda per infelicità e questa sua infelicità è universale perché è un personaggio che ti fa innamorare perché chiunque nella vita una volta ha desiderato non essere quello che era quindi lei trova, organizza, si organizza un appuntamento attraverso la rete in una balera ma tu sei mai stata in una balera? Ci sono stata per girare questo film, ho visto un po' la vita di questa balera, avevo tempo addietro un parrucchiere che frequentava le balere perché faceva balli di sala e ho capito che queste balere sono dei luoghi di aggregazione fortissimi dove in realtà il ballo unisce gente di qualunque estrazione sociale e questa forza del ballo io non la conoscevo, conoscerla è stato illuminante è un luogo di aggregazione come hai detto tu e quindi incontriamo tantissimi personaggi ognuno con le sue caratteristiche tra cui anche il tuo naturalmente Ghega che poi si incontra con questo ragazzo ora posso dirti che secondo me va bene anche così a chi di noi non è mai venuto in mente di truccarci un attimo, uscire una sera da sole e andare all'avventura questo magari succede dai 40 ma anche prima ma guarda intanto il mio personaggio si acchitta proprio con i costumi di Massimo Cantini Parrini che non è stato ricordato ma è un grandissimo costumista che mi ha trasformato in una specie di Kim Kardashian dei poveri quindi è molto divertente e lei incontra questo ragazzo e consuma anche brevemente ma tutti e due hanno capito che questa cosa non funzionerà per cui insomma lei potrebbe veramente essere la madre di questo ragazzo e questo ragazzo anche lui ha mentito per avere insomma la sua serata, per farsi la sua serata, la sua occasione però in realtà è tutto consumato un po' per forza perché poi ti incontri l'importante è che questo tipo di incontri portino anche se brevissima soddisfazione reciproca la felicità è anche un attimo certe volte senti cosa dire alle donne che soffrono un po' di malinconia magari che si accorgono che vanno un po' avanti con gli anni e quindi dicono ah però era molto più figo quando andavamo a ballare, quando tutti ci fischiavano dietro allora intanto che una donna si può fischiare dietro da sola e il tempo passa anche per me e io dico di reagire alla malinconia in qualunque modo volete andare con gli uomini, volete andare con le donne vi volete rifare, volete tagliarvi i capelli a zero, volete decidere di partire, di rimettervi a lavorare di prendere in affidamento un bambino, non lo so, ci sono mille modi di reagire e vanno tutti bene perdonatevi e andate avanti anche perché la notte è piccola per noi la notte è minuscola, corta 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 grazie Michela grazie prego